Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, oggi sono qui per presentarvi la sedia da gaming più costosa al mondo e a quanto dicono, anche quella definitiva. Ci tengo subito a dire che effettivamente non si tratta di una sedia da gaming, anche se Logitech la propone in questo modo. Si tratta infatti di una sedia realizzata in collaborazione tra Herman Miller e Logitech. Non penso che Herman Miller abbia bisogno di presentazioni, ma nel caso qualcuno non dovesse conoscerlo, si tratta di un brand che da anni produce delle sedie ergonomiche di fascia altissima. Logitech, a differenza di altri brand, ha deciso di prendere una strada leggermente diversa, ovvero invece di realizzare una sedia da gaming o una sedia proprio realizzata da loro, di realizzare una collaborazione appunto insieme a Herman Miller per fare un'edizione speciale. Non mi sento di definire la sedia da gaming perché è effettivamente basata sul modello M-Body, che è un modello che esiste da ormai diversi anni e è uno standard per quanto riguarda le sedie ergonomiche. Per realizzare un unboxing leggermente diverso dal solito, ho deciso di sfruttare due amiche streamer che sono venute a trovarmi, ovvero Gitola e Bugalalla, visto che hanno abusato della mia ospitalità eccetera. Non è vero, mi ha fatto assolutamente piacere ospitarle, ma ho deciso di farmi una risata magari vedendole montare la sedia, anche se effettivamente non è andata come mi aspettassi. Quindi, adesso senza perdere altro tempo, vi lascio all'unboxing e poi vi dico un attimo cosa penso di questa sedia. Apriamo questa cosa bella. Ma qui c'è dello scotch ma non c'è niente. Aspetta, aspetta. Due scimmie. Allora, qui vedo... Aspetta, aspetta, ci sono delle frecce. Aspetta, vada qui c'è un coltto a tagliare. Infila le mani nei buchi. Infilo le mani nei buchi. Ok, scuota. No, non mi calli altri buchi io. Sì, sì, ce l'hai. Ah, ecco i buchi. Uno qua. Ok. Ok, scuota in modo da non farti male alla schiena. Sì, aspetta, aspetta. Che devo aprire l'altra maniglia. Ok. Non è andata così. Possiamo distruggere in caso? Penso di sì. Sì, basta. Io qui vedo dello scotch. Qui vedo dello scotch. Quindi è da aprire ai lati. Solitamente queste cose non si aprono. Sfinando le ipoteche. Non lo so, non ho mai aperto una sedia così bella. Sì, c'è tipo un'arnia. Sto toto. Sto toto. Che carino, guarda l'escritta. Ma è già montata? Adesso che non richiede assemblamento. Sto toto. Wow. Eh sì, eh. Togli il preservativo. Wow. No, ma guarda dietro. Perché non è pesa così tanto se è così? Eh, ma senti che è tutta gommina qui. Perché pesa così tanto se è così? In gherlina? Cazzo, no. Eh sì, pesa, pesa. Ma gli togliamo tutte le cosine in più che c'ha? Così dopo la proviamo. E' più di 40 kg. Cioè questo è proprio il materiale con cui non ti si appiccica il culo anche se sudi. Più che altro adoro il fatto che c'è il materiale bello perché ti assorbe tutto il sudore, non ti appiccichi. E poi boh, io che ho il mal di schiena è fantastica sta roba che te la metti come vuoi. E poi adoro i braccioli che li metti dove cazzo vuoi. Dammi, va là. Ecco. Scusate, volevo fare questa cosa. E' un po' grosso come gatto. Oh, oh, altissimo volendo. Sai che se si rompeva non sarebbe stato un bel momento? Questo è un testa resistenza. Eh, il materiale è top per l'estate perché non ci senti sudore. La schiena te la segue bene. E l'unica cosa che non so se mi piace o meno è che non ci sia il coso per la testa. Perché potrei tendere a stare così o cosà, ma quello vedo che è una cosa che a tanti non piace. A me il coso della testa non piace. No? E poi anche qua sulle braccia sembra essere... Cioè tante, tante hanno tipo l'effetto scrubbing e infatti quando ti alzi dalla sedia c'è tipo uno strato di pelle così bianco. La cosa che mi piace è questo qua che è largo perché mi siedo sempre male. Non fatelo. Rieccoci, anche se effettivamente non hanno dovuto montare la sedia perché era già montata, mi sono fatto un paio di risate anche semplicemente a vedere l'impegno che ci hanno messo per trovare il modo in cui doveva essere aperta quella scatola, che vi posso assicurare era un macigno. 60 kg di pacco, che per una sedia da gaming è tantissimo. Come vi ho già detto questa sedia è basata su un modello già esistente, ovvero l'embody di Herman Miller. Si tratta di una sedia ergonomica pensata proprio per chi deve lavorare per tanto tempo al computer o deve stare in un ufficio seduto in una sedia per tanto tanto tempo. La cosa più bella e importante di questa sedia è proprio la personalizzazione, ovvero quanto possa essere regolata e adattata a ogni singolo corpo. Non ha al suo interno memory foam e altro, è tutto basato su un sistema di elastici di gomma per cercare di adattarsi al meglio possibile al nostro corpo. Come tutte le varie sedie da gaming o ergonomiche o da ufficio può essere regolata in tantissimi modi. In questo caso sotto ogni minimo punto di vista. Può essere regolata la lunghezza della seduta, la larghezza dei braccioli e anche ovviamente l'altezza. Anche se devo dire che effettivamente questa regolazione non mi fa impazzire. Non perché risulti cheap ma perché sembra sempre di romperla quando andiamo a allargare o a stringere i braccioli. È possibile regolare la tensione e la forza che è necessaria per andare a inclinare lo schienale e anche il punto in cui va a inclinarsi perché può inclinarsi solo la parte superiore, in mezzo. Si possono fare tutti i tipi di regolazione. Ovviamente si può alzare e abbassare e alle rotelle per poterla far scorrere. Il materiale con cui è costruita non è pelle ma è un tessuto molto traspirante. Sono curioso di vedere a lungo andare effettivamente con il sudore come si comporta ma devo dire che anche dopo lunghe sessioni di seduta è decisamente comoda e di sicuro non ci si incolla. Infine andiamo a vedere le personalizzazioni che sono state effettuate da Logitech per questa sedia. Ovviamente il fattore che dà più all'occhio è la colorazione ovvero completamente nera con dei dettagli o lo schienale azzurro a Logitech. La cosa invece che si nota leggermente di meno è per quanto riguarda la seduta che ha una trama leggermente diversa dalla versione classica che è completamente uniforme ma ha delle strisce e ovviamente il logo Logitech. In conclusione sono qui per dirvi è la sedia da gaming definitiva? Effettivamente no. Secondo me è una ottima sedia. Sono davvero contento di avere avuto l'occasione di provarla e testarla per parecchio tempo anche perché le avevo sempre viste utilizzare ma non avevo mai avuto l'occasione di provarne una. Devo dire che la seduta rimane super comoda anche dopo ore di utilizzo e personalmente sì mi sento di consigliarvela ma ovviamente se potete permettervelo perché effettivamente questa sedia ha un costo che si discosta totalmente da qualsiasi cosa che possa essere anche solo definito sedia da gaming. Parliamo di quasi 1400 euro decisamente costosa anche se il modello effettivamente proposto da Hermann Miller genericamente si trova intorno ai 1400-1500 quindi risulta quasi più economica e mi ha fatto un po' strano questa cosa. Quindi mi sento di consigliarla a chi vuole effettivamente una sedia ergonomica che è il top del top e non vuole badare a spese. In conclusione fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa sedia in descrizione vi lascio ovviamente il link nel caso qualcuno dovesse essere interessato a avere maggiori informazioni. Fatemi sapere se voi già conoscevate questo modello e se secondo voi può avere senso una sedia del genere. Quindi da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che abbiamo lanciato BlinkMyPC il sito perfetto per realizzare il proprio nuovo computer. Ora potete trovare inoltre anche le nuove offerte in tempo reale aggiornate automaticamente per non farvi mai perdere nessuna offerta. Inoltre c'è sia il configuratore base per chi vuole essere guidato al 100% oppure quello avanzato per chi si sente un po' più sicuro di sé. Infine vi ricordo che ci sono tutte le magliette sia per il mio merchandise che per quelle in edizione speciale. Trovate tutti i vari link in descrizione. Grazie a tutti!